Ciao a tutti e benvenuti da Spanema di Searway da Blesenso 3 Blesenso 3 non avete mai conosciuto ora sapete perché leggerò sottotitoli per capire un linguaggio perché te lo dichiarò dopo bene caramente ricorda di stare e senti mentre saluti dei giorni dei nemici puoi decidere chi attaccare il caramento in corso salute a voi veri credenti fate attenzione le forze ben spennilose uomano da un'opera del nostro mondo il ponte cos'è la nostra esistenza o chi o cosa che gira coi codori che spilla dita bestella scalare le tebre non gli altri maestri le lezioni in persona il monero la minacciosa di mistero la tavola dell'ordine del caos vorrà delicato che nero mi farà divertare ricco è bene così potrei combattere mince riesco a sentire la spalla me aspetta cosa farai a mangiare una mattina quella fuori dei pezzi non ferrini i tuoi mezzoni per con lei lo posso darti a un cusino mancherò un po' di brio ah ah non esiste solo tenete il negozio di regalo ah smettila di parlare verda cioè è meglio di parlare meglio cosa che cosa è questo e cosa cosa attento alla palla pensa in fretta che disastro oh ma che diamo è stato ah oh ok qualcuno dimmi che sta succedendo qui spara me sei indeserato manda ma del come a notte che non sei abbastanza cara strana dall'ordine all'editore dell'ordine legale è il più potente e facile del mondo tu hai distrutta si mi distiace già a quanto pare non fanno le tavole cosmo i pezzi sono scompassi interno e ha tradizione di verità quello che vi amo il passaggio è diverso al nostro il presente non è egoizzato il futuro all'ottano e vorrebbe versi mai è un animale di foletti credo quello concentrati mi serve il tuo aiuto tuo quello che gli altri a tre spari me e gli orori in realtà sono quei finti che figgi dal tavolo ehi ehi frena l'altro è la realtà gli altri è me si già hanno tutto ti aiuteranno questa missione e io sono dunque facile vero devi coprare i pezzi di tavola prima che creandole le mani sbagliate altrimenti la nostra realtà verrà ridiata così come loro si non c'è problema sarà spacceggiata interessante dobbiamo trovare i tre pezzi tavole dell'ordine del caos sabbataccio in corso vi cominciamo a quei copertieri comprezioni da soli si seguirà i miei sezioni di errori nel fuori momento come posso rifiutare aiuta la bella signora accede per pure die bellissima il termine tecnico è Sticum Powers Sì, sto cercando una palla Bello Bello Prendi il possante L giù Quello è per dare il segno di ragno Ok Guarda che cosa trovo Ottimo lavoro Chi è convincente l'opera Ora tocca a te un altro spazio Il momento è che sodio un dono diverso Oh, un altro Costume nero Come faccio a quel cosone Nello odio Stai calmo Giovane Pete Questo costume Le talezze Ti serviranno alla tua missione Devi cercare i pattonissi Tutto il mio corpo Ti ho detto di stare I miei poteri Ti potranno prendere Sapendo su di te Davvero Spero che tu mi hai consegnato La regina Ora Pensiamo a recuperare Il nostro Presto Che cosa hai detto Di fare presto Primo Primo Inelettare la regina Poi postati La regina Ponto la regina Li prova Prova Poi prendi Il possante Le due Per usare La regina De veloce Ok Non ci avevo Non ci avevo Eh non è stato Non è affatto Dile che The fragment Is a the end Of the corridor Can you swing Across to it Can I Lady It's my trademark I gotta admit This does feel Fairly under control And I feel Stronger Faster It won't work out After all Fingers crossed Sì, sì, sì. Sì, sì. La prossima del vicino si trova avanti te. Ricevuto, devi fare l'attenzione. Era questa zona e proprietà delle tesi che significa la presenza dell'occhio di Brutico. Dimmi, come sarebbe l'occhio Brutico? Eh, non ho cosa, ma chi? Le forze e la polizia sono le mani delle tesi, non so che si era corretto a tutti. Sì, che palle del diavolo. Ecco, cosa spiegare ovunque. Sono molti nemici che cercano i panniti di recuperare i tuoi frenti. Dei sconfiggere tutti i combattimenti. Non lo dirlo, quella volta ho provato battle art e non ha funzionato. Sembra facile. Prova le tue. E' notevole. E' notevole. E' notevole. E'nezza, l'obre. E'nezza, l'obre. Brutico. freddo o no, avevo la direzione, come farlo scoprire? non hai fatto, hai salvato il pericolo ed hai portato il sicuro grazie alla finita edizione per la tabula ma però per favore, la prossima volta cerca non essere così sono felice di sapere che mi guardi le spalle così lo vedrò sta attento Spagna, stanno arrivando le ultime ah, quello che è stato un omobar scaramento quando avrà la vera sembra che sarà prima di quando credi finalmente c'errà la mia attenzione il futuro e quando sarà nel passato ora vostre pregherite, arriva Spagna Man cosa abbiamo qui? i papà e le forze di criminale in questo mondo hanno trovato uno di freddisi e i possessanti di interazione pensare una vera ormai è così, tranquilla fronte le lombe del tuo pacciaccio prova ad attaccare i nemici della scienacenza usando un attacco di piedi hai letto i pensieri, soglia? sì, quello che io faccio per il possante o per presidire la pisa e ragia se quelle ratele ti fanno male spero che non vedo sono d'accordo, se sei nemico di rete devi sconfiggere in fretta o tirarti nella lomba o in alto ti ho dato nuovi poteri per scegliare le ratele e ti torneranno usi grazie, grazie che hai potenza in realtà le persone vengono su la rete a partutti usa il tuo senso per erare la forrette è di là, attraverso grazie Sì Sì Preparate Sì 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 Un'altra cacione Sì 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 Pati un pensulino Sì 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 Sì